Siamo nello stand di TREM, uno dei più grandi distributori di oggetti e accessori per la nautica in Italia e c'è un prodotto molto curioso che vi vogliamo far vedere. Massimiliano, allora ti senti bene come funziona questo prodotto che sostanzialmente serve per una specie di pompa di sentine sempre in funzione che non utilizza corrente ma il movimento della barca. Il movimento in ormeggio della barca, basta posizionarlo, è automatizzata nel senso che pompa con l'accessorio a soffietto automaticamente quando la barca va avanti e indietro con il movimento delle onde e delle maree diciamo che il soffietto fa da pompa e scarica l'acqua che si forma nella sentina o perché trafila o perché piove. Inquinamento zero perché non consuma né elettricità né altro e quindi... E soprattutto ha anche la possibilità di essere sicuri che comunque la barca viene continuamente svuotata senza doverci andare a... Sì, diciamo sì, attaccare la batteria, staccare la batteria, sì. È sempre funzionante in tutti i momenti 24 ore su 24. E questo è un prodotto che veniva usato anche tanti anni fa artigianalmente fatto con delle pompe di cuoio, no? Sì, fatto in cuoio, a soffietto e poi l'hanno ripreso questa ditta del nord Europa e l'ha brevettato e noi diciamo che siamo i distributori per l'Italia di questo prodotto. Perfetto. Bene, grazie mille. Niente, ci mancherebbe a vedersi.